ciao a tutti anime bentornati qui sul mio canale su quinta dimensione letture grazie mille a tutti quanti sono qui comunque oltre che per questo importantissimo appuntamento con il decreto per gli animali anche per ringraziarvi tutti quanti sia chi mi segue da tanto che da quelli che stanno aprendo il mio video in questo momento un saluto a tutti quanti vi invito comunque a iscrivervi a questo canale e attivare la campanellina cliccando su tutte oggi andiamo a fare un decreto molto importante moltissimo che non è solo diciamo il discepolato della nuova era dettato da san germain ma abbiamo con noi e abbiamo soprattutto da pensare anche per il regno animale va bene quindi oggi facciamo questo decreto per i nostri amati amici i pelosetti i quadrupedi cani gatti eccetera eccetera e non solo cani e gatti ovviamente ma è proprio per avvolgere di luce anche loro per aiutare anche loro insomma che la loro energia vada anche loro verso l'ascensione e li dobbiamo aiutare e possiamo proprio chiedere con questo decreto anche la protezione per loro e che si finisca insomma di usare maltrattare e infliggere qualsiasi tipo ogni sorta di sofferenza a questi meravigliosi esseri che proprio il cristo il dio ci ha donato come nostri compagni di viaggio sappiamo benissimo quanto si vuole bene a un nostro amico animaletto peloso quindi facciamo il decreto proprio mirato in questo video per gli animali quindi invito tutti quelli che amano gli animali a farlo insieme a me ma fatelo anche voi dopo per conto vostro anche dopo questo video chi vuole lo fa sopra la mia voce chi vuole lo fa quando vuole lo può leggere comunque nella descrizione del video che vi invito sempre a guardare per tutte le informazioni su di me per parlare con me su questo canale vi invito anche a visitare www.quintadimensioneletture.it dove vi metterò per scritto anche questo decreto in modo che possiate farlo condividerlo insomma con chi volete voi con chi sa che ha a cuore anche il regno animale molto importante questo lo voglio mettere oltre perché insomma per l'amore proprio per gli animali ma anche perché dobbiamo aiutare anche la loro ascensione quindi facciamo tutto il nostro lavoro tutto quanto quello che riguarda l'essere umano ma anche loro perché sapete che c'è un piano anche per loro per l'ascensione dove saranno insomma portati con noi e non saranno lasciati indietro gli animali non abbiate paura di questo l'hanno detto molte volte i fratelli galattici in canalizzazione ovviamente quelle più che reputo essere affidabili è perché non c'è da leggere tutto quello che si trova perché c'è una insomma un tutto un puri di cose copie incolla di qua e di là canalizzazioni che non si sa che cosa sono da chi le fa quindi il mio modesto parere insomma da fonti molto attendibili so che anche i nostri quadrupedi verranno con noi ecco mi fermo qua chissà approfondisca chi vuol sapere approfondisca ancora più di chi già sa ma non vi fermate mai nella nella voglia di sapere nella voglia di scoperta nella voglia di conoscenza molto importante qua come già vi ho fatto vedere ho il mio diapason a 528 hertz che è proprio per la guarigione del dna prima di fare il decreto facciamo due tre respiri profondi suoniamo il nostro mi piace chiamarlo gong a me addirittura perché questo mi ricorda molto no lo strumento con cui si batte il gong però è fatto per questo diapason appunto quindi ci godiamo un attimo questo suono di diapason permettiamo a questo suono di entrare con noi di rilassarci è dentro di noi di entrare dentro di noi di farci proprio di allinearsi e di ripulire anche di mettere in buona energia quella che è adesso la nostra vibrazione proprio in questo momento mi raccomando è molto importante che tutto ciò abbia un senso molto elevato molto energetico è predisponetevi sempre prima di ogni decreto preghiera nel giusto stato d'animo con molta riverenza con molta umiltà con molta luce chiediamo la luce chiamiamo i nostri angeli gli arcangeli nostri che sappiamo quelli che amiamo di più chiamiamoli proprio in quel momento in modo che questa preghiera questo decreto arrivi proprio dove deve arrivare va bene che abbia proprio il suo effetto è molto molto importante questo quindi adesso facciamo un bel respiro o anche due respiri profondi ognuno faccia come vuole come si sente e suoniamo proprio il nostro diapason permettiamo di rilassarci e poi andiamo con il decreto oggi chiudiamo e facciamo solo il decreto senza alcun tipo di carte oracoli eccetera mi raccomando usatelo condividete con chi ama sapete che ama e ha a cuore proprio la salute di questi stupendi esseri quadrupedi i nostri amici su questa terra che anche loro sono anime incarnate e anche loro sono venuti qua sono con noi proprio per un motivo per un motivo non sono lì così esseri secondari non è così allora respiriamo volgiamo anche un pensiero al nostro maestro asceso ilario al nostro maestro asceso ilario al johan direttore del quinto raggio della scienza verità salute chi segue il percorso dei raggi dei sette raggi cinque raggi occulti lo conoscerà è proprio il maestro ilario che ha dato questo decreto quindi pensiamo un attimo al colore verde al raggio verde e pensiamo al nostro maestro asceso ilario che ci ha donato questo decreto per aiutare anche il diciamo il mondo dei quadrupedi degli esseri animali e quindi pensiamo un attimo anche a lui lo metto anche in sovrappressione che ci porti la sua energia il suo sapere la sua saggezza che ci inondi di questo raggio verde di guarigione scienza verità salute e che ci aiuti a portare veramente altissima l'energia di questo raggio durante questo decreto è davvero molto importante e adesso partiamo con il decreto ascolta la nostra preghiera o dio per i nostri amici animali e specialmente per le creature la cui esistenza è stata distorta dalla coscienza umana chiediamo che il regno animale mai più sia costretto ad accettare nulla che sia inferiore alla perfezione di dio chiamiamo la presenza io sono di tutta l'umanità affinché scarichi ed emani l'amore e la luce verso tutte le creature minori che sono state affidate alla nostra protezione che la grazia e la compassione di dio fluiscano attraverso di noi e portino conforto al regno animale che ogni essere umano ricordi che gli animali sono realmente nostri amici e accetti la propria responsabilità come guardiano e protettore di queste vite pure e innocenti su questo pianeta così lo decretiamo nel più sacro nome di dio io sono grazie a tutti grazie a tutti eccoci qua mi raccomando fatelo condividetelo è molto importante molto importante perché aiutamo anche proprio lo svolgersi a livello anche carmico per queste creature anche per loro di arrivare insomma piani superiori diversi perché veramente ci sono tanti animali che sono veramente sfruttati che sono proprio diciamo trattati in maniere assurde preghiamo per questa cosa decretiamo proprio la guarigione e niente più del raggio verde e del maestro Ilarion può aiutarci verso questo influsso proprio positivo di luce e di aiutare verso l'ascensione anche loro va bene ci ritroveremo comunque sempre tutti quanti verso questa nuova terra che tanto san germain sta aiutando a portare in manifestazione mai proprio c'è stato prima tutto questo aiuto questa accelerazione vi metto nella descrizione il decreto per l'accelerazione della nuova era che è molto importante decretare fate quello e questo qua insieme perché comunque è importante anche unire le energie delle cose questo è specifico per gli animali ma l'accelerazione della nuova era deve essere data dagli umani quindi possiamo fare prima gli umani prima il decreto che è collettivo mondiale per tutti e poi anche di unire questo per gli animali ve lo metto in descrizione che è piacere lo vada a sentire lo vada poi anche a decretare e a fare sappiate che il decreto non è ormai una perdita di tempo è una è una proprio diciamo è un'affermazione affermare attraverso il quinto chakra il chakra della gola la parola che ha una potenza comunque incredibile decretare è molto importante ecco perché alcune cose su ogni video specifico vi dico questo potete farlo anche a mente ma questo no per esempio i decreti sarebbe meglio farli sempre a voce piena ok a voce diciamo naturale normale non urlati ovviamente ma ci sono delle cose che è meglio proprio far uscire l'energia proprio dalla gola dal quinto chakra perché ha più presa è più potente anime grazie mille vi ricordo sempre su questo canale tutta la playlist di questi lavori chi piace chi ha piacere chi vuole li vada a fare per la crescita spirituale che è molto importante il decretare va bene molto importante il decretare quindi vedetevi la playlist detta proprio a questa cosa con tanti codici sacri parole magiche decreti e tanti altri lavori per voi gratuiti che trovate proprio su questo canale per la vostra proprio diciamo guarigione è per questo vostro cammino grazie mille sempre a tutti a tutti gli iscritti che crescono sempre così velocemente grazie a tutti quelli in privato vi aspetto presto qua su quinta dimensione letture per un nuovo video insieme a me ciao a tutti e grazie